Sta per cominciare la stagione per la Blue Volley Quarrata, un altro anno di B1 per consolidarsi con l'obiettivo della salvezza. Lunedì 27 agosto scatta l'ora X, si alzerà il sipario con la preparazione con alcuni amichevoli già in programma, la prima il 6 settembre a Castelfranco, contro la formazione che milita nella stessa categoria. Coach Davide Torracchi e il suo staff, in primis il vice Gastone e Bettarini, avranno tutto il roster al completo, un gruppo giovane e molto rinnovato rispetto all'anno passato. Ci sono le palleggiatrici Margherita Rosso e Veronica Baldi, una delle promosse dal settore giovanile, il libero, una delle conferme, Francesca Chiti, poi le opposte Giulia Kelly e Giulia Gai, quest'ultima, altro elemento del vivaio blu. Le schiacciatrici Ilaria degli Innocenti, Adele Poggi, Silvia Gradi e Leonora Nesi. Il capitano, Martina Di Gregorio e accanto a lei le altre centrali, Gemma Bianciardi, Ascia Zingoni e Sara Donnini. Un mix dunque che soddisfa l'allenatore perché è fatto di giocatrici con ottime prospettive. Il livello del torneo rispetto alla scorsa stagione si è alzato, ma come sempre la società, con un budget a disposizione, è riuscita a creare una buona formazione. Lavorerà per tagliare quanto prima il traguardo salvezza. Adesso c'è da lavorare in palestra ogni giorno per creare il proprio gioco e l'affiatamento fra le ragazze in campo. L'esordio in campionato ci sarà sabato 13 ottobre con la trasferta vicino ad Ancona in casa della Eco Energy 04 Lardini. Si parte subito con una lunga trasferta. Il debutto casalingo invece sarà il 20 ottobre quando al Palamelo arriverà la bionatura Nottolini-Capannoli.